Partirà lunedì 23 ottobre il nuovo piano di raccolta dei rifiuti per la città di Torre del Greco. Ad annunciarlo l'assessore al ciclo integrato dei rifiuti Antonio Ramondo, nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina al Circo Lonati. Il nuovo calendario prevede il conferimento di monomateriali, scelta che è stata meditata, studiata, valutata nei minimi dettagli perché si ritiene che sia l'unica praticabile. In questo modo eliminiamo alibi per la cittadinanza che può confondersi nel conferire multimateriale e per la stessa ditta che trova dei cumuli di materiali differenti per cui non raccoglie. Conferendo una sola frazione giornaliera semplificheremo la vita a tutti e avremo certamente una città più ordinata e più pulita. Un conferimento monodifferenziato dunque basato su un nuovo calendario che prevede soltanto il giovedì il deposito di due frazioni ovvero carte e cartoni e imballaggi in vetro. Per il resto il lunedì sera sarà previsto il conferimento del multimateriale, imballaggi in plastica e metalli. Il martedì sera il secco residuo, mercoledì, venerdì e domenica invece sarà la volta dell'umido ovvero della frazione organica. Invariato il divieto di conferimento per la giornata del sabato. Più differenziamo più abbattiamo i costi. Se i torresi vogliono pagare meno e avere un buon servizio devono differenziare i materiali. Da un punto di vista invece strategico e di operatività sul territorio, considerato che rileviamo in alcuni quartieri soltanto un conferimento indifferenziato quasi quotidiano, come si agirà per quelle zone? L'amministrazione come intenderà intervenire? Ci sarà una campagna di informazione massiva, verrà fatto un cassettaggio ovvero in ogni abitazione dotata di cassetta postale arriverà il calendario a domicilio. Inoltre si muoveranno varie associazioni di volontariato sul territorio che saranno identificate con delle pettorine che sono state appositamente formate, che gireranno a compulsare, a motivare, a spiegare i motivi di questo nuovo calendario e di perché devono differenziare. Sono state coinvolte le parrocchie, le scuole, avremo una riunione da qui a pochi giorni con il clero cittadino, abbiamo parlato con il decano. Ci è stata richiesta espressamente una loro compartecipazione e noi saremmo ben felici di avere questo mondo a fianco a noi. Inoltre la società attraverso i propri mezzi di comunicazione farà una campagna massiva sul territorio informando puntualmente la popolazione. Ci sarà circa un mese di tempo affinché la popolazione possa metabolizzare e comprendere soprattutto i motivi. Esaurita questa fase però c'è un momento nel quale le regole devono essere rispettate. Grazie a tutti.